Ed insomma ragazzi, La Casa, il risveglio del male. Lo attendevate come film, questo reboot della celebre saga ideata da Sam Raimi, cioè chi non ha amato la casa, la casa 2, l'armata delle tenebre. Pensate che io prima di andare al cinema a vedere questa nuova trasposizione mi sono rivisto la trilogia perché mi fa sempre piacere farlo, perché mi diverto tantissimo e perché tutt'oggi come quando la guardavo che ero più ragazzino riesce a divertirmi un sacco, riesce a farmi capire quanto con poco si riesca a fare tanto. Poi pensate che io, le premesse prima di iniziare a parlare del risveglio del male, non sono mai stato uno di quelli affezionatissimi a questa saga perché non ci sono cresciuto. Io sono cresciuto con Scream, con Nightmare, con la bambola assassina. Purtroppo la trilogia della casa l'ho recuperata solamente quando già avevo 16-17 anni e non è la stessa cosa di quando un horror lo vedi a 5-6 anni. Però soprattutto crescendo, quindi qualche anno fa ne ho capito la bellezza, ho constatato quanto sembra Imi, che è un regista che come ben saprete amo, con pochissimi dollari, con pochissimi mezzi in quel film cult riuscì a creare un qualcosa che ha fatto la storia del cinema horror e non solo, ma per di più quanto quel film sia stato poi utilizzato anche come esempio per realizzare lo budget dei prodotti facendo di necessità virtù e regalando forse gli spaventi, forse le soluzioni anche visive migliori. Ogni volta che mi trovo di fronte a quella stop motion, per quanto è ovvio siano film figli dei loro tempi, si percepisce quando l'effettistica prende il sopravvento, però seppur si possa notare qualche effetto invecchiato un po' peggio, beh ce ne fossero di film in quel modo oggi come oggi. In una panoramica cinematografica in cui vediamo sempre l'effetto digitale che prende il sopravvento, io preferisco quell'effetto prostetico, quell'effetto più rude, quell'effetto più grezzo ma che mi dava proprio l'idea di quel cinema fatto con le mani, con l'animo, col cuore, un film che ti fa sporcare le mani. La casa 2, non ne parliamo, è il mio preferito e poi c'è l'armata delle tenebre. E vabbè, pensate che non ho mai visto Ash vs Savile Dead, insomma la serie, prima o poi la recupererò assolutamente, anche perché vedendo la trilogia mi è tornata voglia di tuffarmi nel mondo di Ash, del nostro Bruce Campbell, ma indipendentemente da questo parliamo della casa, il risveglio del male, che prima di vedere non sapevo effettivamente se sarebbe stato un seguito diretto, non sapevo se invece fosse stato un ennesimo reboot totale, anche perché il trailer non lasciava nessuna comunque idea nel pubblico che potesse ricollegarsi alla trilogia originale, tantomeno neanche al remake del 2013 di Fede Alvarez che, seppur apprezzi come regista, mi lasciò alquanto freddo, non sto rivedendolo oggi. Lo vidi al cinema e non l'ho mai più rivisto, però ricordo che non mi piacco e magari dopo tanto tempo, dopo dieci anni, potrei aver cambiato idea, chi lo sa. Staremo a vedere, sono andato con mio padre, a Luci Cinemas di Campi Bisenzio, fatemi dire che soddisfazione trovare la sala completamente piena, per di più da ragazzi ma anche da persone adulte. Che bello, specialmente vedere un film dell'orrore quando si percepisce anche quella tensione di gruppo o quella voglia di divertirsi di gruppo, anche perché io mi domandavo se questo film, scritto e diretto da Lee Cronin, avesse portato avanti l'atmosfera più goliardica, demenziale, paradossale, sopra le righe della trilogia originale, o per meglio dire del capitolo 2 e del capitolo 3, perché l'1 era un horror vero e proprio, oppure se fosse stato un film più serioso, più cupo come quello del 2013. La cosa che un attimo mi faceva stare cauto nei confronti della pellicola in questione era la regia, perché Lee Cronin a me aveva deluso tantissimo con Hall, l'abisso, il suo primo film che ho visto al cinema, troveresti anche la recensione sul canale, che trovai proprio brutto, sia a livello di storia sia a livello di regia, non mi lasciò niente, quindi ero intimorito. Per di più, beh, un conto è se dietro la macchina da presa ci fosse stato ancora Sam Raimi, un conto è se anche alla lontana avessero provato a riportare in auge Bruce Campbell e quindi portare avanti quella sottotrama, forse lì avrei avuto più curiosità. Vedendo il trailer ho detto dai, ok, carina l'atmosfera, quasi all'Annabelle creation, vi ricordate in Annabelle creation c'era anche lì la canzoncina in sottofondo con il vinile e la musichina che partiva un pochino inquietante? Qua c'è che sarà, sarà, che poi è solo nel trailer, perché poi nel film non pensiate di ascoltarla. Invece in Annabelle creation c'era You are my sunshine, my only sunshine. Comunque, torniamo alla casa il risveglio del male, colpo di scena, perché effettivamente non ci speravo, a me il film è piaciuto. Ho percepito quanto Lee Cronin sia stato intanto un grande fan della trilogia originale, perché in questo film ci sono ovviamente tutte le influenze raimiane. Dobbiamo metterlo a paragone? Assolutamente no. La trilogia di Raimi si mangia dieci volte, il film di Lee Cronin lo vomita, se lo rimangia lo rivomita e se lo rimangia. Però effettivamente ho visto un mestierante, perché comunque Lee Cronin è il suo secondo film, che ha fatto un bel passo avanti rispetto al pessimo Hall, l'abisso, e che comunque tenendo in considerazione ciò che il suo maestro gli ha insegnato, cinematograficamente parlando, con una messa in scena notevole, con delle situazioni anche molto splattere, delle dinamiche sanguinolente, Lee Cronin è riuscito ad accompagnare me e tutto il pubblico in un'ora e trentacinque di viaggio nelle viscere di queste persone che pian piano si trasformano in anime possedute. Come ben sappiamo c'è un Necronomicon, un Necronomicon che questa volta viene trovato all'interno di un cavo di una banca che è situato sotto al palazzo metropolitano dove vivono i nostri protagonisti, stavolta non parliamo dello chalet nel bosco, lo vediamo all'inizio e poi non più, quindi è anche carino, interessante mostrare il palazzo, il condominio. Io non so alla prossima riunione di condominio come si lamenteranno perché quello che è successo in quella notte nemmeno nel prologo di Salvate il Soldato Ryan però indipendentemente da questo e al netto dei difetti che il film ha perché ci sono devo dire che anche a livello di cast sia stato scelto un nutrito gruppo di attori in parte per di più la regia, la messa in scena è stata particolarmente accattivante, il film è decisamente splatter, molto sanguinolento, non attendetevi la demenzialità, ci sono delle scene più sopra le righe, ci sono delle scene sicuramente grottesche ma non pensiate di trovarvi di fronte a un rifacimento della casa 2 o dell'armata delle tenebre, ci sono dei momenti più grotteschi e altri la maggior parte più seriosi, per me non c'è problema, anzi per me è importante vedere il pensiero autoriale. Fede Alvarez ricordo che ai tempi così cupo così serio non mi convince ma ripeto lo metto da parte quel film perché lo dovrei rivedere oggi e potrei aver cambiato totalmente idea. Questo film invece riesce a intrattenere, riesce a coinvolgere, riesce a divertire soprattutto, avevo timore che l'effetto digitale oggi nel 2023 come al solito prendesse il sopravvento su tutto e su tutti, in realtà no, sì ci sono delle cose in digitale che non mi sono piaciute, la colorazione degli occhi, mi è mancato quell'effetto prostetico, però effettivamente gli effetti pratici ci sono, ci sono e sono ben realizzati. Ci sono delle sequenze che mi hanno fatto dire caspita che dolore perché senza tenere in considerazione Terrifier che gioca in un altro campionato lo sappiamo, è un film non commerciale, tra i prodotti mainstream la casa il risveglio del male è uno dei più tosti che abbia visto negli ultimi anni. Nel cast abbiamo Alyssa Sutherland che interpreta la madre di famiglia che come vedrete nel trailer se non l'aveste visto o come avete visto nel trailer sarà posseduta dopo poco, abbiamo Lily Sullivan che interpreta Beth, sua sorella, che va a trovare la famiglia in questo palazzo di Los Angeles dopo che si rende conto che debba mettere un po' in ordine la sua vita, ma non voglio dirvi di più. Abbiamo Morgan Davis che interpreta uno dei figli della nostra Ellie, che inizialmente era Morgana Davis, poi attraverso il processo di transizione era una donna che poi è praticamente passata all'altro sesso, quindi c'è anche un attore transessuale che non conoscevo e poi abbiamo Gabriele Echols, Neil Fisher che interpreta Cassie, Nel Fisher scusatemi che interpreta Cassie, che è la bambina che insieme alla zia Beth stringerà un bel rapporto per cercare di salvarsi da tutte queste persone possedute perché non aspettatevi solamente la mamma che da un momento all'altro viene assolutamente presa come la casa ci ha sempre insegnato dopo aver letto, dopo aver ascoltato per meglio dire le parole che si trovano nel Necronomicon scritte a sangue, qua abbiamo un vinile, lo ascoltiamo e ascoltandolo, beh dal 1923 la forza del male non si è ancora stancata e pronta a mietere vittime, quindi da lì in poi tutto il film che si sviluppa è una trama semplice ma efficace. Ci sono difetti? Sì, a livello di sceneggiatura ogni tanto bisogna sospendere l'incredulità, lo si fa facilmente in un film in cui si vomita, si sputano occhi che vengono ingoiati da altri, ci si insomma decapita, ci si sega in mille pezzi, quindi assolutamente non preoccupatevi, l'incredulità si sospende facilmente però io mi domandavo, porca miseria, posso capire che questo palazzo ormai sia quasi del tutto disabitato come viene detto, posso comprendere che ci sia stato il terremoto, che ci sia stato il temporale, quella data serata in cui si trova il necronomico, però che nessuno durante questa notte degli altri abitanti del palazzo si sia reso conto del casino esorbitante che nei corridoi intanto si sviluppava sempre più, andava sempre più ad ampliarsi, beh mi è sembrato un tantino strano, avrei voluto una maggiore anche voglia di soffermarsi su come gli altri inquilini magari impauriti, se ne restavano zitti zitti buoni buoni in casa per non andare a vedere cosa stesse succedendo fuori, magari per la paura di altri attacchi di terremoto, ed invece no, quindi in dei momenti pensi ma veramente in questo palazzo ci abitano in due, perché effettivamente si vede la famiglia dei nostri protagonisti vicini di casa, quelli che abiti, di rimpettai e basta, quindi ci sono piccolezze, però ci ho pensato, un accorgimento in più sarebbe stato interessante, ma per il resto il film lo potreste vedere anche senza aver visto mai niente della casa, ma il mio consiglio spassionato è quello di recuperarvi la trilogia di Sam Raimi, lì stiamo parlando di storia del cinema horror e non solo, stiamo parlando di film importanti come vi ho detto all'inizio del video, dei b-movies tra l'altro, ma con un cuore di serie A, perché per b-movies non si intende sempre qualcosa di brutto, ma anche qualcosa fatto senza budget, specialmente nel caso del primo film e con pochissimo budget, poche migliaia di dollari, si riesce a fare qualcosa che nella storia è rimasto, è rimasto impresso, è stato utilizzato come esempio per altri registi, per realizzare altri film, come esempio da altri registi per realizzare numerosi film, poi quante volte è stata presa in riferimento la casa nel bosco, c'è proprio anche il film quella casa nel bosco e poi la casa di Queen, la casa di Mary, ce ne sono molti, anche che si spacciavano per conseguenziali alla trilogia originale quando invece non era così. Comunque, comunque, il film è prodotto dalla New Line Cinema e dalla Warner Bros e fatemi dire che alla fine ho pensato, se ci fossero eventuali seguiti li vedrei volentieri, perché tutto sommato il film intrattiene, coinvolge, è assolutamente pronto anche a disturbare con questa massiccia dose di splatter e fortunatamente, dopo quella ciofeca inenarrabile dell'esorcista del Papa, film bruttissimo, ho detto, meno male, un film horror che si lascia guardare con interesse che coinvolga. Non è certo un filmone, la casa è il risveglio del male, non è certo un capolavoro, né tantomeno un bellissimo film. È un buon film che omaggia Sam Raimi, che si distacca da quei film, non ci sono collegamenti se non easter egg, assolutamente non pensiate di trovare collegamenti diretti perché restereste delusi, è più un reboot, anche se fate caso al Necronomicon, che magari potreste già averlo visto, quello lì particolare, in uno dei tre capitoli della saga originale. Comunque, detto ciò, meno male. Io già suppongo che qua sotto ci saranno invece i fanatici, il fandom dell'esorcista del Papa, che potrebbero contraddirmi, ma come Paolo, l'esorcista del Papa è superiore, perché ho letto dei commenti su Facebook che stanno trattando l'esorcista del Papa come se fosse l'esorcista di Fritkin. Mamma mia, addirittura alcuni hanno detto l'esorcista del Papa è superiore sui gruppi Facebook, e non lo dico io, pubblicai anche le storie su Instagram, è superiore all'esorcista. Vabbè, ragazzi, tutti i gusti sono gusti, come disse quello che si ciucciava ai calzini sporchi, e niente, io adesso passerò ad una minima parte spoiler per dirvi più nello specifico ciò che questo film mi ha lasciato e per dirvi ciò che mi abbia più colpito. Anche le musiche di Stephen McKeon sono state decisamente interessanti e accattivanti, ma così come il trucco, il parrucco, insomma il montaggio, è tutto ben studiato in un film horror di buona fattura e che spero possa convincere Lee Cronin a proseguire, perché il male lo sappiamo non muore mai, specialmente dopo che lo hai risvegliato, e dopo avermi deluso con All, fatemi dire che bello che possa invece stavolta avermi sorpreso, perché non sempre quando bocci un film vuol dire che poi quel regista non possa sorprendermi in futuro. Lee Cronin è la dimostrazione, spero non sia stata una botta di fortuna, ma che possa convincermi ancora. Quindi ragazzi vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Seguitemi solo se aveste visto il film. Allora, non è che mi dilungherò fin troppo, anche perché ho parlato in lungo e in largo nella parte generale della trama di questo film, che nella sua semplicità riesce comunque ad essere accattivante. Il Necronomicon viene fuori dopo poco, ma dopo un prologo decisamente fatemi dire, mica male, con questo chalet nel bosco, questa ragazza non sta bene, sua cugina va a chiederle cosa c'è e lei è già posseduta. Prende la cugina, le strappa il cuoio capelluto e poi va dal suo ragazzo, prende intanto il drone, si decapita con lei, si fa per sgozzare con quello, cade in mare, nel lago, scusatemi il ragazzo si tuffa nel lago, il sangue che viene a galla e quindi lei che sale su e la casa, il risveglio del male. Mi è piaciuto il prologo, specialmente il titolo del film, come appare sullo schermo con lei che si che si innalza in aria e poi invece andiamo ad un giorno prima. Si riunisce questa allegra famigliola, allegra mica tanto perché vivono in un palazzo cupissimo, quindi l'atmosfera è quasi sicuramente triste e gotica, invece loro cercano di infondere un po' di felicità nelle loro vite, anche se il padre, quindi marito della protagonista, ha abbandonato la famiglia ormai già da due mesi, Beth non era ancora a conoscenza, la sorella che torna, da lì un terremoto, si trova il Necronomicon che è quello tra l'altro, uno di quelli dell'armata delle tenebre, se nella casa di Fede Alvarez veniva utilizzato l'altro Necronomicon, quando Bruce Campbell, Ash si ritrova a dover scegliere fra i tre, no? E praticamente se nella casa di Fede Alvarez ne mostravano uno, qua mostrano il terzo possiamo dire, questo collegamento non importante ma per gli estimatori così geniale l'ho trovato assolutamente azzeccato. Quindi il Necronomicon, il vinile, ascoltiamo il vinile, ascoltiamo le parole, abbiamo risvegliato un'entità già nel 1923, ho dovuto uccidere tutti, ecco che però adesso si è risvegliata e ammetto che il momento in cui Danny, se non ricordo male si chiamava Danny, il momento in cui ascolta al vinile le parole pronunciate da questo prete e il vinile non si riesce a spegnere, seppur sia saltata la luce, seppur faccia il possibile per stopparlo, quella scena lì mi ha messo anche un po' di tensione addosso, anche un po' di angoscia, quindi è un film che riesce a creare tensione, poi non vuol puntare sullo spavento, vuol puntare più anche sull'esagerazione in termini di splatter, seppur mantenga un clima serioso e non quindi goliardico. Ci sono delle scene più grottesche come quella in cui si toglie l'occhio al vicino di casa e si sputa in bocca all'altro personaggio, però ci sono dei momenti quando con l'apparecchio per grattugiare il formaggio, porca miseria, alla zia si struscia sul polpaccio, mamma mia quel momento lì, oppure anche i vetri, i vetri nella gola della figlia, della nostra protagonista, che eccoli qua, che si vedono. Ci sono dei momenti e pensate che ho letto in un'intervista che il regista, che abbia anche censurato alcune sue sequenze, non le abbia rese esplicite come inizialmente nel montato erano, quindi le ha un po' ridimensionate, però fatemi dire che seppur le abbia ridimensionate, la loro porca figura la fanno. Ed è tutto un film che si basa poi su questa battaglia per sopravvivere, perché pian piano tutti diventeranno posseduti, la scena della possessione della madre nell'ascensore, mi ricorda anche un po' quella della casa di Fede Alvarez, qua non c'è lo stupro, diciamo, dei cavi, come nel primo film, con le piante, i rami che stupravano praticamente la ragazza coinvolta, e quindi questa madre è stata inquietantissima, Alissa Sutherland, una brave e bella attrice, molto in parte così come Lily Sullivan nei panni di Beth, questa sfida tra sorelle, per poi andare incontro ad un'apoteosi, ad un crescendo estremo di sangue, di splatter, non c'è niente in stop motion, non vi aspettate la genialità, non vi aspettate la bellezza di quei film di Sam Raimi che facevano anche del difetto il loro punto di forza, considerando il budget ridotto, qua è tutto molto più incentrato sul sangue, ma va bene così, tanto sarebbe stato quasi egocentrico per un regista pensare di poter essere all'altezza o superiore a Sam Raimi, specialmente al secondo lungometraggio. Quindi quando sul finire del film, nel parcheggio del palazzo, ormai sono rimaste solo Beth ed Ellie, scusate Beth e la bambina Cassie, vediamo la madre che si è unita con tutti gli altri corpi, quindi tutti gli altri corpi quasi in un qualcosa di Lovecraftiano si uniscono, diventa un mostro in stile polipo e questo momento finale in cui giustamente viene fuori la motosega, ci può non essere una motosega in un film che si chiama La Casa? No! E quindi si inizia a segare e poi si butta in questo tritatutto, altro che quel film orribile che è Halloween Hance di David Gordon Green in cui si butta Michael Myers nel tritatutto che neanche i video che si vedono su TikTok. Qua ha un senso, si inizia a tagliare poi e il sangue che schizza fiumi. Io mi sono divertito, mi sono divertito, la sala era coinvolta tra rissate, tra momenti in cui la tensione serpeggiava, fra applausi finali, quindi questo è quello che io gradisco anche dall'horror commerciale. Quindi questo è il mio parere su un film che poi sul finale si va a ricollegare all'inizio perché scopriamo che la ragazza, la cugina, quella posseduta all'inizio del film, abitasse nel palazzo. Prova a giustificare, sono stata tutta la notte in casa perché c'erano rumori temporali, però fa un po' strano che non si sia mai visto nessuno. Poi magari ci abitavano esclusivamente tre famiglie, però potevano stare un po' più attenti a mostrarcelo, però ecco mi chiedevo come si ricollegheranno all'inizio in questo modo. Ci sono i momenti in cui la creatura arriva in soggettiva, l'inizio è già carino perché si pensa che sia la creatura malvagia, invece è un drone, però alla fine invece arriva e quindi io un seguito me lo aspetterei e anzi rivedrei molto volentieri Beth, rivedrei anche Cassie e mi dispiacerà non rivedere Ellie perché Alissa Sutherland come protagonista a me è piaciuta, è stata assolutamente accattivante e quindi che dirvi ragazzi questo è il mio parere su un film vietato ai minori di 14 anni che senza alcuna aspettativa è riuscito a sorprendermi comunque e a regalarmi un'ora e mezzo di intrattenimento e coinvolgimento puro. Non è un filmone ma comunque è un buon prodotto. Alla prossima ragazzi!